Saba, 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 saba La musica del mondo è qui Saba e Radio Sound Italia Tanti artisti assieme a voi Saba, 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 saba La musica del mondo è qui La musica del mondo è qui Saba, 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 saba Un applauso assieme a noi Ma sa, ma ciao, ma come stai? Ma ti vedo benissimo Eh? Eh? Diventa sempre più giovane, sempre più fico Mamma mia, io invece, hai visto, sono stile natalizia? Sì, infatti Sono una babba natale Vabbè, comunque a parte, dimmi tutto No, dai, babba natale, no, dai, no, dai Mamma natale Mamma natale Mamma natale Non siamo da soli No, come sempre non siamo da soli Io e te non riusciamo mai a stare da soli Solo ogni tanto No, qualche volta ce la facciamo Eh, vabbè E oggi abbiamo, questa sera, abbiamo con noi un altro ospite Stasera Un bravissimo cantautore È vero, è vero Bravissimo Perché ho sentito, ho ascoltato i suoi pezzi E poi ne parliamo Perché poi ce la facciamo Un bel nome Ciao Benedetto Sì, sì, sì Ciao 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 Sandro Ciao carissimo Ciao, ciao Cantautore Ciao Veramente, secondo me, veramente molto, molto bravo Però dopo Grazie Tanto ce li vediamo Due Te li guardiamo insieme Due video Allora, Barbara Io ti lascio la parola Così incomincio a fare qualche domanda Al nostro amico E magari poi ogni tanto Insomma, mi introduco anche io Mi introduco anch'io Dai Benedetto Ciao Barbara, ciao Buonasera Ben trovato Benvenuto nella nostra trasmissione Buonasera a voi Buonasera a tutti quelli che sono all'ascolto Grazie, grazie Salutiamo insomma tutti i nostri follower Tutte le nostre persone che ci seguono E raccontati Raccontati un po', dato che su Sound Italia non ci sei ancora stato Allora, è la prima occasione di incontro che abbiamo Dunque, a livello musicale Diciamo che ho cominciato a studiare abbastanza presto A me piace le cose parli per bene Di conseguenza quando la passione è diventata Per la musica è diventata importante Perché in realtà c'è sempre stata Io ricordo che ero piccolino, piccolino, piccolino 3-4 anni E in un video che vedremo dopo C'è una foto più o meno di quell'età lì Già con le prime carre e il giocattolo in mano E ricordo che mi costruirono una specie di asta di microfono di legno Per farmi giocare Quindi la passione c'è sempre stata Che bello! Ma tu nasci prima musicista? No, io diciamo che purtroppo La lato musicale intesa come suonare strumenti Non sono mai riuscito a coltivarlo come si deve Nel senso, più di una volta ho cercato di cominciare Ma poi sono tentativi rimasti lì E comunque la mia passione grande è sempre stata Verso il canto e verso la scrittura dei testi Da punto di vista della scrittura nasco proprio come autore di testi Poi sostanzialmente Quando appunto verso i 15-16 anni Insomma la passione per la musica era proprio tanta 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 E però ripeto a me le cose piace farle per bene Quindi ho cominciato a studiare Le prime ho preso di prendere tre sessioni Però la svolta grossa credo che possa Cioè sono stati due i momenti Due gli insegnanti che mi hanno formato proprio Una mentre facevo l'università Il maestro Natali Variano Era stato un tenore importante E con lui ho avuto proprio una risistemazione della voce Nel mio registro tenorile Perché alla fine sono un tenore leggero Anche se a me poi piace spingermi verso più le note basse Però come tenore, come registro vocale Rientro nei tenori leggeri Quindi lui mi ha sistemato un po' la voce E poi dal lato interpretativo invece con la professoressa Masini Che mi ha preso sotto la sua ala Verso all'inizio del 2000 sostanzialmente Con lei ho cominciato i primi spettacoli Mi sono scoperto presentatore perché Dai, bello, bello Quindi non lasci timido come tanti artisti Allora io come caratterialmente non sono una persona molto espansiva sinceramente Nella vita di tutti i giorni Il palcoscenico Il palcoscenico Credo che il più bello che mi abbiano fatto è stato Ti cali nel momento e nella realtà che stai interpretando Mi riesci a renderla benissimo Diventi un altro Diventi funzione di quello che stai cantando o facendo E sul palcoscenico Dalle prime volte che l'ho calcato Mi sono reso conto che non mi intimidiva È sempre stato un posto in cui mi sentivo molto rilassato Molto libero Molto tranquillo Bello Guarda che non succede a molti Sì Tu di dove sei scusami? Io sono di Viareggio Ah tu sei di Viareggio? Nato appunto Sì Nato Sì sì Cresciuto sempre qui Non di famiglia completamente toscana Ma comunque sì Anche tu sei un misto? Sì Io sono un bel mescolone Centro-sud Centro-sud E quindi mi ha sempre dato questa sensazione di grande libertà E di grande tranquillità Quello che devo dire è che ho sempre cercato di non fare il passo più lungo della gamba Certo Ponderare bene Le prime esperienze le ho avute con due concorsi canori a 18 e 19 anni Sempre in campo lirico? No 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 Campo musica leggera No musica leggera 18 e 19 anni Il secondo anno feci il passo più lungo della gamba Perché vogli fare Uomini persi di Claudio Baglioni E non ero ancora pronto Insomma è una canzone molto impegnativa Anche dal punto di vista vocale Non che venne fuori un disastro Però a qualche punto qualche stecchetta Venne fuori E da lì mi sono detto no Cioè faccio quello che sono in grado di fare Anche perché facendo quello che sono in grado di fare Perché so che riesco a fare in maniera tranquilla Sono tranquillo Non ho un'ansia, una pressione addosso Ti chiedo Benedetto Vai vai Sandro Ti chiedo Benedetto Nelle tue canzoni hai messo qualcosa Vediamo se il mio orecchio è Di De Andrè Allora Diciamo che è un grandissimo Non rientra tra quelli che io ho ascoltato regolarmente Però c'è un filo Io lo sento un filo Del cantautorato di De Andrè Nell'ultimo brano che ho pubblicato In effetti me l'han detto più di una persona Eh vedi allora Qualcosa Forse anche la timbrica Sì bravo bravo Guarda Mi tolgo le parole di bocca Nel senso La timbrica è anche un genere Che per quanto io Diciamo Rientri nell'ambito pop cantautorale Ecco Quello forse Quest'ultimo pezzo Forse si sposta quasi più verso il folk È un pezzo particolare Perché insomma Poi l'ascolteremo Un pezzo Molto intimo Durante il lockdown E che sono Mie considerazioni Sulla nostra società occidentale Alla luce della pandemia Pur non parlando direttamente Della pandemia E quindi Insomma è una canzone un po' particolare Nata in un momento particolare Però Me l'hanno detto Me l'hanno già ridata È un grandissimo complimento È veramente un grandissimo Infatti voleva essere assolutamente Poi sai Io credo che chiunque scriva Comunque ha Ha un punto di riferimento storico È normale Poi viene trasformato E poi magari viene anche dimenticato Però è una Insomma Io comunque ragazzi Scusatemi un attimo Ho trovato anche delle inflezioni Di Renato Zero In certi punti Anche questo Anche questo Me l'hanno detto Renato Zero L'ho ascoltato molto di più Diciamo che Nella mia fase di maturità artistica Forse il punto di riferimento più forte E più importante che ho avuto È Roberto Vecchioni Sì Quel Cioè Io sono partito Con un modello canoro Che era Massimo Ranieri Per dirne uno Cioè Il bel canto all'italiana Perché Però poi alla fine È venuto fuori Benedetto Perché poi Gli artisti Devono venire Loro fuori Col tempo Però L'evoluzione grossa L'ho avuta Con la scoperta Del cantare Alla Vecchioni Comunque Ci sono gli anni 70 Nel tuo Cioè Non c'è 70-80 70-80 70-80 Certo Io rimango molto sul 70 A mio avviso Ma sicuramente Che ripeto È un complimento Perché Sono anche gli anni Che continuo a preferire Assolutamente 80-80 A inizio 90 Sono al periodo Sicuramente Le mie radici musicali Sono lì Sono lì Sono lì Poi è chiaro che Insomma Ci sono state evoluzioni È stato il periodo In cui Ero Fissato con Ipu Il periodo Che ero Fissato con Baglioni Con Però Ecco I nomadi Di Danilo Sacco Danilo Sacco Dal punto di vista vocale Per me è un punto Di riferimento enorme Lo trovo Forse Attualmente La più bella voce italiana In assoluto E Quindi I punti di riferimento Sono tanti Poi Quello che Mi posso Mi posso Ascrivere È che comunque Sono sempre stato Abbastanza personale Cioè a me è capitato Spesso di proporre Delle cover Di canzoni poco note Sì E di essere riconosciuto Quindi E durante gli spettacoli Alla fine mi venivano chiedere Ma è una canzone tua? Ecco Bellissima In senso assoluto Cioè No Dai È strano Provare No Però Però mi ha detto Ci sono voci più belle Sicuramente ci sono voci più belle Ma è una voce riconoscibile È tua Non scimmiotti qualcun altro Quindi E questo Lo ritengo Un grosso complimento Nel senso Anche se No nel senso Sicuramente ci sono voci Molto più belle Dal punto proprio di vista Dal punto di vista acustico Estetico Probabilmente Sicuramente più belle Della mia Però penso che la personalità Comunque sia una Comunque è una voce che dona È una voce profonda E questo Arriva al pubblico A me piace Io Giustamente Mi sono messa Non nella veste di 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 cantante Ma come Ascoltatrice È arrivato Quello che volevi dire Io Sì Poi insomma Ripeto Secondo me Pure Avendo una timbrica Tenorile La mia La mia voce Rende molto meglio Sui bassi Perché sono più caldi Più morbidi Più Uomo occidentale Il pezzo che poi Il pezzo che poi Ascolteremo Sì L'ho fatto ascoltare In anteprima Danilo Sacco Appunto E lui mi aveva consigliato Di farlo Di un tono Un tono e mezzo Più alto Probabilmente ci sarei Arrivato Ho provato Ma secondo me Non mi rendeva Non rendeva giustizia Un po' non rendeva giustizia A quella canzone In particolare Ma poi rispetto Anche alla mia timbrica A me piace molto Il morto Non divertiva Ecco Diciamolo Benedetto È importante Per un cantante Trovare il vestito giusto Questo probabilmente Ripreso da Renato Zero Cioè L'appoggiarsi molto Sulle note Sulle note Più basse Più calde Più Più morbide Sì Senti Benedetto Volevo farti una domanda A parte I cantautori Che hai nominato Prima Italiani Invece Per quanto riguarda Cantatori Cantatori esteri Cioè Personaggi Fuori Internazionali Chi sono invece Nella tua mente Le mie altre Le mie altre Grandissime passioni Esatto Phil Collins Phil Collins Billy Joel I Queen Pure Ma quello Insomma Mercury si va Si va su un altro pianeta Per cui Anche se Giannisis Phil Collins Allora Il nostro amico comune Luigi Con Con Barbara Sì 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 Ma anche con Sandro Perché insomma Con Sandro Quando io L'ho contattato Nel Primi anni Novanta L'idea Era proprio quella Di Riformare Un trio quartetto Alla Genesis Cioè La mia idea Era quella Io volevo rifare I Genesis italiani E quello Era il mio I primi Fine Fine Liceo Ma non era Una brutta idea No infatti Fine Liceo I primi anni Di università È stato il mio periodo Proprio di Intrafunata massima Per Phil Collins E per i Genesis Ero veramente Ero veramente Partito Phil Collins Più come cantante O come batterista Cantante Io ho cominciato a seguire Prima lui da solista E poi E poi dopo E poi dopo i Genesis Se i Genesis Me li sono fatti a ritroso Cioè nel senso Sono partito da quello Da Invisible Touch Sostanzialmente E poi Ho riscoperto Tutto quanto Album per album Anno per anno Sono andato all'indietro E ho riscoperto Tutto Dai tempi In cui si andava Nel negozio di dischi Si comprava Sei un amante Del vinile Del vinile Non tanto Io ho usato Tanto le caratteristiche Sei arrivato dopo Te No perché Io invece No 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 C'ero C'ero Eh vabbè Ma tu sei molto più giovane Di me No no Quanto classe 71 Beh sono quasi Otto anni Sì Ma non lo dire E non lo dire L'età non si dice Ma no L'uomo Le donne Non possono dirlo L'uomo lo può dire Chi se ne frega Dell'uomo Noi possiamo dirlo Barbara Noi Ma sì Ma non ci sono più Che poi Che poi ho conosciuto Tantissime donne Che non hanno assolutamente Nessun problema Non si chiede Non si chiede Allora Non si chiede a una donna Quello sicuramente Non è una Carino Insomma Però un uomo Si può chiedere Io però ho sempre amato Di più le cassette Perché me le potevo portare In giro Eh la famosa cassetta Con le Vabbè 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 No vabbè Gli album Che ho amato di più Le ho comprate in cassetta Due volte Perché la prima L'ho sempre distrutta Dalle volte Che le ascoltavo Eri uno di quelli Che faceva le registrazioni Dallo stereo Quando arrivava Eh no No Compravo direttamente In cassetta Tu comprai E poi Poi però appunto Quelle che ascoltavo di più Alla fine si rovinavano E quindi Le dovevo ricordare Vabbè Dai Che ci sentiamo Ci guardiamo Un pezzo Vediamo se lo troviamo Eccolo qui Allora Io direi Che Siamo caduti In tanti È il pezzo Ciò che ci andiamo Ad ascoltare Come È il penultimo Esatto Perciparli Perciparli appunto Di questo brano Ok Perfetto Ok Ce l'ascoltiamo State lì eh Sì Chi si muove Siamo caduti In tanti Dalle stelle Della nostra infanzia Siamo caduti In tanti E nei pugni Resta solo rabbia Da sfogare Contro un muro Condannati a non capire mai A non essere capiti mai In fondo basterebbe Un vecchio amico E una risata Ma il fatto è che nessuno Si ferma un tavolo ormai vuoto E il tempo va di fretta Rumando sogni ed emozioni La prima sigaretta Che ancora brucia Nei polmoni E la velocità Di un'auto verso il mare La nostra ingenuità Che uccide prima di morire Siamo caduti in tanti Dalle stelle Della nostra infanzia Siamo caduti in tanti E nei pugni Resta solo rabbia Da sfogare contro un muro Condannati a non capire mai A non essere capiti mai Mai In cerca dell'amore Di quello che non tradirà Fuggiamo le avventure Giocando con le ipocrisie E ancora lo neghiamo Però è un abbraccio Che vorremmo Da un padre Che la vita Correndo ci ha portato via E la velocità di Un'auto verso il mare La nostra ingenuità Che uccide prima di morire Siamo caduti in tanti Dalle stelle della nostra infanzia Naufraghi in preda al vento Disarmati di speranza Con lo sguardo appeso al cielo Rassegnati a non trovarsi mai A non essere trovati mai Siamo caduti in tanti Dalle stelle della nostra infanzia Siamo caduti in tanti E nei pugni resta solo rabbia Da staccare contro un muro Condannati a non capire mai A non essere capiti mai Mai Siamo caduti in tanti Dalle stelle della nostra infanzia Siamo caduti in tanti Siamo caduti in tanti Dalle stelle della nostra infanzia Bellissimo Bellissimo Dove sei andata a prenderla Raccontaci dove Se vi dico quando l'ho scritta Questa canzone qua Vi mettete a ridere Questa canzone è stata O la prima o la seconda Che ho scritto insieme a Luigi Quindi risale alla bellezza Della prima metà degli anni 90 Per cui ha un sacco di anni Ha una vita È stata L'ho ritoccato leggermente il testo Nel corso degli anni L'avevo proposta Non mi ricordo in che anno 2008-2009 Per Sanremo Giovani Ovviamente non mi hanno Ovviamente non mi hanno preso Insomma Quindi insomma Comunque sia Il testo era quello Grosso modo era quello Quindi è tanto Che è stata È tanto che è stata scritta E Appunto Una delle prime cose fatte con Luigi Quindi è stato proprio L'avvio della nostra Della nostra collaborazione Quindi Nelle immagini Nelle immagini del video Invece sono immagini Che tu sei Hai preso Della tua storia O Sono immagini Che sei andato a prendere Le foto sono mie Mentre i filmati Ovviamente Ovviamente no Sono filmati Di repertorio Che ho Acquisito Da siti specializzati In questo tipo di In questo tipo di servizio Il video l'ho montato io Comunque me lo sono montato Bravo Bravo Molto bello Molto bello Me lo sono montato da solo E E E quindi Praticamente è una canzone Che Racconta Da un certo punto di vista Un po' La perdita dell'innocenza Dell'infanzia Il rendersi conto Che arrivato a un certo punto Nella vita Le tante possibilità Che si avevano da bimbi Vengono meno Cioè Quando si nasce Ci sono mille mila strade Possibili davanti a noi Mano umano che si va avanti con gli anni Di strada ne rimane una Che è quella che abbiamo Che è quella che abbiamo Percorso Poi alla fine E poi Beh Gli affetti Che si perdono I sogni che si perdono E ho cercato di rendere Anche questo Anche nel Anche nel video Nel video La Le scene in esterno In bianco e nero Quelle invece Non sono il repertorio Sono 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 mio ovviamente E le ha registrate Un altro mio amico Luca Petri Che è Un Un Bravissimo grafico Pittore E tra l'altro Si è occupato anche Della copertina Li siamo caduti in tanti L'idea L'abbiamo elaborata insieme Poi la realizzazione È stata È stata sua E questa è un po' La caratteristica Un po' di tutta La mia attività musicale Cioè Ho un gruppo di amici Che mi aiutano E In quello che io non so fare Sono tante le cose Che non so Beh ma Alla fine le collaborazioni Sono Servono anche per questo Non possiamo essere Dei Eh sì ma Non è che possiamo Conoscere tutte Saper fare tutto Anche perché poi Ne facciamo Magari tante Ma male Invece ci concentriamo Su delle cose Poi Se le collaborazioni Sono Con gente Inquadrata Che Rispetta Anche Allora È ovvio Che Sono E' anche bello Il fatto che Si riesca a lavorare Con gli amici Perché È anche occasione Per passare del tempo insieme Ah beh Ciao Le occasioni di incontro Scarseggiano sempre E avere queste Queste attività Che Sì sono fatte sul serio Quindi da un certo punto di vista Possiamo considerare lavoro Però dall'altro Si scherza Si Non c'è l'attenzione Quindi Di passare Di passare insieme Passare insieme Del tempo E l'arrangiamento È stato curato Da Lorenzo Fiorentino Che è un altro Dei ormai miei storici Collaboratori Lui invece ha Un cantautore Anche lui Molto bravo E Molto più giovane Di me Una decina di anni Tutti delle zone Tutti delle zone Scusami Tutti delle zone Tutti delle zone Diareggio Diareggio Lido Vertilia Insomma La zona E quella lì E Diciamo che ci siamo fatti Una piccola Una piccola scuola Versiliese Si parlava della scuola Fiorentina Di Bigazzi E dati Noi ci siamo fatti In piccolo Una piccola scuola Una piccola scuola Versiliese E Molto bello Il tuo entusiasmo Veramente ci Ci rallegra Lorenzo Anche Uno studio di registrazione Lì in zona Quindi Le registrazioni LF Studio Recording Le registrazioni Le ho fatte Le ho fatte da lui E ha curato appunto Gli arrangiamenti E la La produzione La produzione audio Quindi Insomma Praticamente Tutto fatto Con Con amici Nel senso Non Non che sia qualcosa Anzi Bello Andarsi A cercare Il professionista Di grido Che ti cura Alla Perfezione Però Dal mio punto di vista Preferisco così Nel senso Magari Potrebbero essere Anche delle imperfezioni Tecniche Però È roba nostra Cioè nel senso È tutto fatto Con Con la massima Particuzione Mi senti? Mi senti? Magari non mi senti? No Stavo dicendo Dipende uno Poi A che livelli Vuole arrivare Se uno Lo fa come Secondo lavoro Oppure Insomma È il suo Lavoro primario Io la penso così Sì Chiaramente Poi Insomma Ci sono percorsi No? Penso che non si possa Nemmeno Pretendere Di cominciare Da un Entourage top Nel senso Alla fine Poi È anche un modo Per noi Per tutti quanti noi Per crescere Per crescere Insieme Cioè alla fine Tutti quanti Facciamo esperienza Chi in un campo Chi nell'altro Però si cresce Io penso che se Alla fine Io ho pubblicato Soltanto quattro singoli Per il momento Due nel 2019 Due nel 2020 Io credo che se Si guardano in sequenza Un percorso di crescita Si trova già In questi due In questi due In questi due anni Quindi Sono cresciuto io Ho cresciuto il gruppo Però penso anche Per tanti Per tanti aspetti Per tanti aspetti Diversi Ma li hai pubblicati Per conto tu Oppure Sono autoproduzioni No sono autoproduzioni Pubblicati tramite I distributori digitali E poi Accompagnati da Dei video Video su Su YouTube Però vabbè Sono su vari Molti lo fanno Perché giustamente Se non hanno un'etichetta Per ora Per ora Siamo usciti solo Solo in digitale L'etichetta Ma per un po' L'ho cercata Poi alla fine Ho detto Con le possibilità Che ci sono ora Faccio da me Per il momento Almeno sono libero E Da vincoli Posso scegliere Fare le cose In cui credo Veramente Farle come Penso che Debano essere fatte Poi Vabbè Ci sarà tempo Per Mi pare Mi pare di capire Comunque Viene detto Che tu non vivi di musica Cioè non riesci A vivere di musica Cosa fai nella vita Quella La vita normale Non da artista Io sono un prof Ma insegni Cosa insegni Scienze Amba Amba Molto Alle medie No Liceo scientifico Piero Gareggio Ah ok A 18 anni Avrei voluto Vivere di musica Poi Chiaramente La vita Appunto Però insegni Insegni Una materia Per me Musicale Perché Le scienze Devono essere Credo sia una delle materie Più poetiche Che ci sono Assolutamente Sì Forse Certe volte Si dà poco conto A queste materie Si dà più conto Alla Alla Letteratura Alla Alla Matematica Invece Le scienze Raggruppa Un po' Tutto Raggruppa La matematica La fisica La geografia La scienza La natura Cioè Nelle scienze Nell'insegnamento Delle scienze È veramente Il mondo Il mondo E c'è anche La musica Sì È vero Sicuramente Sicuramente Insomma Alla fine Il termine Armonia Si usa per la musica Ma si usa anche Per tanti aspetti Della natura E ci sarà un perché Beh ce l'ha insegnato Anche Fibonacci Infatti Infatti Esattamente E E quindi niente Diciamo che Per vicissitudini Varie della vita Io con Col 2010 Avevo quasi Un po' Sono stato Molto 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 Attivo Nel Nel decennio Da Nel primo decennio Del 2000 Dal 2000 A livello Musicale Parli A livello Musicale Veramente Ho fatto Tanti spettacoli E stavi Pensando Quasi Quasi Sì 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 E poi Per vicissitudini Varie A livello A livello Personale Diciamo che La musica è finita Proprio Un cassettino In fondo Guarda Questo momento Incredibile Come stai vivendo In questo momento Guarda Tu ci puoi raccontare La cosa interessante Di te E che ci puoi raccontare Un po' Come lo stai vivendo Da artista Perché comunque Da artista Lo stai vivendo Sicuramente Male Però Da artista E anche Da autore Perché in questo momento C'è una Insomma Ci sono anche dei blocchi Dei pensieri In alcuni personaggi Ne ho parlato anche In altre trasmissioni E lo voglio anche sapere E lo voglio anche sapere A questo punto Ne approfitto Come invece Lo stai vivendo Insieme ai tuoi alunni Da professore Da quello che È dalla parte Della cattiva Allora A livello Sì Bella domanda È molto complessa Dunque Da artista Mi diverto Io sono un sadico No no È bella Da artista Chiaramente Si è bloccato tutto Perché il lato live È completamente È completamente fermo E non solo al lato live Perché anche Insomma Usufruire degli studi Di registrazione È diventato È diventato complicato Per un certo Per un certo periodo E in qualche momento Lo è Ancora adesso Tant'è vero Che l'ultimo Singolo In realtà La parte È stato realizzato Tutto a distanza Quello che ascolteremo Fra poco È stato È stato realizzato A aprile Di quest'anno È stato realizzato Tutto a distanza Abbiamo composto A distanza Con un altro Dei miei collaboratori Storici Simone D'Arigliano È un musicista Un pianista Un compositore Molto 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 bravo E me l'ha arrangiato A distanza Lorenzo Senza che ci siamo Senza che ci siamo Incontrati Io a casa mia Con la mia attrezzatura Ho registrato le voci Gli ho mandato il tutto E quindi Insomma Tutto molto complicato Cosa che Si sarebbe fatta Sicuramente La parte Della registrazione Delle voci Dell'arrangiamento In presenza Con Lorenzo Siamo andati in studio Da lui Ne avremmo parlato Di persone Eccetera Invece è stato fatto Tutto a distanza Quindi Dal punto di vista Delle attività artistiche Effettivamente è un periodo Molto complicato O qualcuno Per chi ha la fortuna Di riuscire a lavorare Come ho lavorato io Comunque sia Siamo riusciti A realizzare Credo Anche dal punto di vista Tecnico Un buon prodotto Un buon risultato Però chi aveva necessità Di muoversi Di andare direttamente In studio Non è riuscito Non è rimasto Completamente fermo Quindi è un momento Veramente Ed il resto Con la situazione Che c'era Non è che si potesse fare Ma tu sei riuscito A livello A livello autorale Perché sai Io ho sentito Ho sentito Un sacco Di Di gente Che scrive E qualcuno Mi ha risposto No A me Questo periodo Mi ha fatto rilassare Mi sono messo lì Mi sono messo tranquillo E ho scritto E sono riuscito A tirar fuori Anche dei nuovi testi Delle nuove canzoni Qualcun altro Invece La risposta è stata No Io sono talmente stressato Talmente E non sono riuscito A concentrarmi Per cui Non sono riuscito A scrivere nulla E tu in che Da che parte sei? Allora Faccio una premessa Io sono stato Prolifico All'ennesima potenza Nei miei 20 anni Nel decennio Tra i 20 e i 30 anni Ho tantissime canzoni Scritte E messe lì Che poi Ora sto Risistemando Con la maturità Degli anni passati Un po' come quella Che abbiamo ascoltato Insomma Come quella Che abbiamo ascoltato Che poi Insomma Nel corso Dei prossimi anni Penso che Almeno alcune Vedranno Vedranno luce Alcune magari Direttamente da me Altre magari anche Nei prossimi lavori di Luigi Probabilmente qualcosa Andrà finito Lo meriteranno sicuramente Andrà finito sicuramente lì Questi ultimi anni Sono stati meno prolifici Dal punto di vista Dal punto di vista autorale Se non in certi momenti particolari In cui si accende la lampadina Io non sono uno di quelli Che Si è mai forzato Nello scrivere Cioè scrivo Quando Ho qualcosa da dire Qualcosa da dire Che sia Perché sento l'esigenza Di raccontare Anche qualcosa Che mi riguarda In prima persona O semplicemente Anche perché Mi viene un motivetto Carino Che penso Che valga la pena Di realizzarlo Però L'idea di mettermi Al tavolino A scrivere Di proposito Ho sempre cercato Di evitarla Perché mi piace Poi è chiaro Che il lavoro di Cesello Dopo ci vuole Si butta giù l'idea iniziale Dopo il lavoro di Cesello A tavolino Va fatto Però L'Incipit Ho sempre preferito Che venisse un po' spontaneo E questa canzone Sinceramente È nata da sì È nata nel giro Di due giorni Dai Due giorni Ho buttato giù Testo e melodia Io Come dicevo prima Non so suonare Non sono in grado Di accompagnarmi Ho tirato giù il testo Con una melodia in mente L'ho registrata Cantando la cappella E l'ho mandata a Simone Ho detto Fai te E lui ha tirato fuori Degli accordi Che secondo me Sono veramente Veramente Beh Me l'ha vestita Sostanzialmente Dopodiché Una volta che Il pezzo era finito Era composto L'abbiamo mandato a Lorenzo Che invece ha fatto L'arrangiamento Vero e proprio Rispettando però L'idea Di un po' di carillon Che si sente Nel giro di Piero Forte Iniziale Che aveva dato Simone Lasciando un altro Arrangiamento Proprio minimale 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 Cosa fai Per i profani Perché certe volte Succede che qualcuno Che non conosce la musica Perché Cosa fai Fischietti Fai motivetti A voce Cos'è che fai Come trasmetti Ad uno Che la musica Poi te la deve Trascrivere Te la deve Creare Prendi nota Stai guidando E prendi nota E fischi Cosa succede Per me Cosa c'è dietro Poi alla fine C'è una roba Semplicissima Poi vabbè Il lavoro Del musicista Che poi Scrive E mette giù E fai anche Di arrangiamenti Magari Poi c'è tutto Un lavoro Molto più complesso Però Qualche volta Nasce Da Da un motivetto Che veramente Con le mani Sul volante Oppure chissà Dove Ti viene fuori E' bella Questa roba Questa cosa Perché arriva Secondo me Arriva dall'anima In quel momento lì Ai tempi Prendevo Il registrato A cassette Beh certo Il famoso Sony Oppure Il registrato Torino Delle piccole Cassettine Che ormai Non esistono Neanche più Non esistono Si usa il digitale Però Però così Nel senso Chiaro che Quando capita Che ci si può trovare In presenza Allora no Magari lui si mette Al pianoforte Io gliela canto Direttamente Gliela canto Direttamente Lì insieme Insieme Suonate così Anche tante canzoni Con Luigi Con Simone Con Lorenzo Una delle Nelle Delle canzoni Sarà presente Nell'EP E nata In questa maniera Cioè Io Ho scritto un testo Ma già con un'idea Di melodia Dietro Poi In molti casi Chiaro che Magari Le melodie Che vengono in mente A me Sono un po' troppo Banali E quindi Dopo loro Ci rimettono Mano E le nobilitano Un po' Per forza Intanto salutiamo Marco Della Bona Che dice Ciao Sandruzzo E ciao Barbarella Un abbraccio Iper mega galattico E Laura Tore Invece Anche lei Non manca mai Grande Laura Grazie mille Poi Ha detto che ci seguirà Anche questa sera Laura Tore Scrive Buona serata Sandro E buona sera A tutti E poi Buona sera A Barbara Lauratore Grazie Laura Un bacione Credi Negli alieni Negli UFO Benedetto Come quelli Nella letteratura Dei film Fantastici No Insomma Non molto Per quanto riguarda Il fatto che ci possano essere Altre forme di vita Intorno a qualche altra stella Nell'universo Ma è molto probabile Nel senso Non si sa Come saranno fatte O a che livelli ci sono Ma sicuramente Non siamo l'unica forma di vita Non è detto che siano umanoidi Non è detto che siano intelligenti Non è detto che però Insomma qualche altra forma di vita Beh se arrivano da noi Non possono non essere più intelligenti di noi È impossibile L'astronave che arriva da noi Non ci credi Un po' di perplessità E va bene Ma scusami Come te li spieghi Tutti gli avvistamenti Che avvengono Ma non lo so Sai Io nel senso Non sono abituato A dare opinioni E allora Seguici questa sera Che cambilea 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 Allora ci ascoltiamo L'altro pezzo Del nostro amico Ah chiedo scusa Chiedo scusa Chiedo scusa Vai 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 E se no rimane lì E lato prof Senti è stata Ah no Della mia domanda No invece ti fermo Mi No no Fermati A quella domanda Mi rispondi Dopo il pezzo E proprio No 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 Io pensavo che era Una domanda di Barbara Mi ero distratto Un attimino Perché io Mentre voi parlate Sono qui che Mi cerco di condividere Fare Insomma c'è tanto lavoro Dietro Ci ascoltiamo L'altro pezzo E poi Mi rispondi A quella domanda Perché intanto Sono abbastanza distaccate Le cose Per cui Va bene così Allora Uno Allora Uomo occidentale È il pezzo Occidentale per tutti voi State lì Ci siamo creduti I padroni del mondo Abbiamo viaggiato Senza sosta e controllo Convinti che niente Ci potesse fermare Barchette di carta Che sfidano il mare Ma adesso vedo Anche i più forti Tremare Le strade svuotarsi Ed improvviso tacere Il senso che niente Potrà essere uguale La natura ci mostra Che è il vero potere E tu cosa farai? Uomo occidentale Chiuso in quella stanza Solo ad aspettare Abbiamo ignorato Avvisi e grida di aiuto Abbiamo cercato Nell'altro il nemico Per poi riscoprirci Con le stesse paure Non c'è differenza Non c'è differenza Davanti al dolore E tu cosa farai? Uomo occidentale Uomo occidentale Chiuso in quella stanza Fermo ad aspettare Che cosa sognerai? Cosa sarà essenziale In un tempo sospeso Di vita artificiale Ci siamo creduti I migliori del mondo Abbiamo innalzato Abbiamo innalzato Muri di odio e di orgoglio Convinti che niente Ci potesse far male Fragili foglie d'autunno Contro il vento che sale Parchette di carta Che sfidano il mare Parchette di carta Parchette di carta Ah mi sembrava bloccato Sandra Ecco mi sentite adesso? Ah ecco no era successo No no eravamo già in linea Ma io parlavo Ma alla fine non Ah no non ti sentivamo Ma bellissimo Benedetto No stavo appunto dicendo Che il brano È davvero bello 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 Sì Le immagini sono Sono da spiegare Allora partendo dal video E il video Anche questo me lo sono costruito Da solo Cercando immagini Di repertorio ovviamente Tra l'altro ho visto Che hai scelto Anche un bacio Che da Bresniev L'ex Era Bresniev quello Giusto? L'ex presidente Della Russia Perché ai tempi Era ancora Urs Dell'Unione Sovietica È un murale Su pezzo rimasto Del muro di Berlino Del Berlino Esatto Esatto Lì volevo rappresentare Il muro di Berlino Quando appunto parlo Di muri Alzati Per Per orgoglio E per E Ho cercato le immagini Che Fossero Legate Al senso Del testo Della canzone Senza essere Troppo didascaliche E Però senza scadere Un pochino Troppo nella facile Attualità Quindi ho lasciato fuori Mascherine Ho lasciato fuori Dottori Ho lasciato fuori Letti di ospedale Perché ovviamente L'ispirazione Di Uomo Occidentale Dal periodo Di quarantena Di lockdown Sì Quarantena Pandemia Che stiamo Vivendo Però poi non tratta Direttamente di quello Più che altro È una Appunto una considerazione Sulla Sulla nostra società Forse siamo stati Un po' troppo orgogliosi Un po' troppo presuntuosi Nel nostro modo di vivere Questa pandemia Forse 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 Da un certo punto di vista Ne ha un po' la conseguenza I primi versi che ho scritto Sono quelli di apertura Sono proprio quelli Non sempre succede così Ma sono proprio Quelli Quelli di apertura Ci siamo creduti Padroni del mondo Abbiamo viaggiato Senza sosta e controllo Convinti che niente Ci potesse fermare Barchette di carta Che sfidano il mare Molto bello Ha applicato sull'immagine Disegna Mi regolavo di conseguenza Per aggiustare un po' Per aggiustare un po' il tiro E questo è un po' tutto Il mio team Quindi Luigi Simone Lorenzo Per la parte musicale E Alfredo e Luca Invece per la parte Grafica Artistica Insomma Siete un bel team Siete pochi No 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 Poi Riusciamo Cioè è anche bello Perché C'è una grande Lealtà Una grande Sincerità reciproca Cioè se c'è qualcosa Che non funziona Ce lo diciamo E è la cosa Più bella Penso Perché Avere qualcuno intorno Che ti dice sempre Sì 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 Anche quando No 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 È anche controproducente Quindi Insomma Poi ripeto Sono amici Sono tutti Sono veramente amici Tutti Quindi Adesso abbiamo Otto minuti Per Intanto per Rispondere Alla domanda di prima Perché la dobbiamo Giustamente Avere una risposta E Poi vabbè Andiamo nella conclusione Parliamo Della persona Di appunto Di Benedetto Non artista Perché poi L'altra domanda Va Nella Nella vita Nella quotidianità No Del Di Benedetto Allora Prego Ma cerco di essere Molto sintetico E Lockdown di marzo È stato difficile È stato difficile Perché è stata una cosa Imprevista Mai vissuta prima Inaspettata Da un giorno all'altro I ragazzi Si sono trovati Senza punti di riferimento Come noi Ma con la Maggiore difficoltà Di non avere La nostra maturità Nell'affrontare Una Una situazione È già difficile Per gli adulti Figuriamoci Per dei Dei ragazzi Che da un giorno All'altro Si trovano Con dei ritmi Di vita Completamente sballati Quindi quello Che abbiamo fatto Un po' tutte le scuole Ma noi come scuola Abbiamo sentito L'urgenza Di metterci Prima ancora Che arrivassero Le direttive ministeriali Però di attrezzarci Subito Per cominciare Con dei contatti Online In modo tale Da riuscire A dar loro Una Scansione Nei ritmi Della giornata Perché era L'unico modo Per dargli Un senso Di normalità Che normalità Non ce n'era Però Per tenerli occupati Per cercare Di non fargli Pensare troppo Alla situazione Che stavano vivendo E quindi È stato È stato difficile Questa seconda fase Da questo punto di vista È stata Forse meno difficile Da gestire Per quanto riguarda Lato Lato scuola Perché Comunque sia C'eravamo attrezzati Nel frattempo Ma spiegami Da voi sono arrivati I banchi con le rotelle No Ma i banchi con le rotelle Sono stati No Ma sono stati In realtà Soltanto per Per quelle scuole Che ne facevano richiesta Ah Ok Soltanto poche scuole Hanno fatto Hanno fatto richiesta C'è stata un po' Di confusione Di comunicazione Da quel lato Di vista Era uno Anche se fare Di plastica Di Neanche quelli Allora No 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 Quello che è stato fatto È dove c'erano Banchi O troppo grossi O banchi doppi Perché In alcune scuole Nella nostra No Ma in alcune scuole C'erano ancora Banchini a due posti E lì chiaramente I ragazzi Non ci potevano stare Perché ci voleva Quella minima distanza Allora Dove C'erano I banchi Quei banchi Lì andavano sostituiti E la sostituzione Poteva essere fatta O con Questi banchi Con le rotelle Oppure Con Dei banchini I singoli Normali Però Certo Non No C'è stata un po' Di folklore Come spesso È Folclore Però il ministero I soldi Gli ha spesi Sarà anche folklore Però Lo stanziamento Del denaro È stato messo lì Per Benedetti Banchi E io ho visto Anche Delle Immagini Dove Ci sono magazzini Interi Con questi banchi Messi lì Poi Hai ragione Tu che Probabilmente Le scuole Alcune scuole Le hanno richieste E alcune altre Non le hanno richieste Ma probabilmente Avevano previsto Di metterne Un certo numero E non l'hanno Poi Non è successo In teoria Ne avrebbero dovuti Prendere Tanti quanti Esatto Gli erano stati richiesti Poi cosa abbiano fatto Non lo so Però ecco Non è Quello che volevo dire Folclore nel senso Non è che tutte le scuole D'Italia Sono state riempite Di banchi No no Ho capito Quello che Intendo In questo senso In questo senso Qua Anche perché È veramente Una cazzata Scusami Se mi permetto Ma proprio Da gioco Da stupi Una stupidaggine Incredibile Qualcosa Che Purtroppo Viene Da una diversa Cultura e concezione Della scuola Quella che è La scuola Anglosassone Soprattutto americana E che Mal si Si adatta Mal si cala Nella realtà Nella tradizione Nostra Io credo Che certe Certe nostre tradizioni Vadano anche difese Da un certo punto di vista Non è detto Che ciò che viene Dagli Stati Uniti Sia per forza Ma assolutamente No Ma assolutamente No 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 Sono 19 56 No 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 Ne abbiamo ancora 4 minuti Benedetto Intanto è stato Veramente molto interessante Parlare con te Anche Oltre che come artista Perché poi a me Barbara lo sa A noi piace parlare anche della musica esatto e della persona perché poi alla fine dietro un artista c'è sempre una vita normale no una vita che magari la gente non sa è vero che la prima domanda che ti fanno sì ma qual è il tuo lavoro no perché poi a chi lavora di musica nel tuo caso per fortuna no perché dico per fortuna in questo momento ragazzi almeno il mondo della musica sta veramente soffrendo le pene dell'interno non soltanto a livello morale a livello di soul di animo ma proprio ma soprattutto a livello economico barbara in questo momento c'è veramente tanta gente che purtroppo non prende sussidi perché c'è un mondo abbastanza sommerso come tu ben sai e purtroppo è così chiaramente essendoci un mondo sommerso lo stato non sa che esisti praticamente questo è il grande dilemma e chiaramente se non sa che esisti come può darti questo è il problema questo però dovrebbe anche che secondo me essere di insegnamento per il futuro cosa che in italia non credo molto perché noi ci giriamo sempre intorno agli errori no non impariamo mai dalle cose dalle cazzate che si fanno però invece dovrebbe essere che gli artisti proprio gli stessi artisti adesso si mettano insieme e dicano un attimo adesso fare lavorare tutto insommerso non è possibile perché se succede ancora qualcosa se non è una pandemia può essere qualcos'altro almeno possiamo essere per lo meno magari per poco però possiamo essere tutelati da quello che è il nostro stato cosa ne dici una grossissima verità e che non vale soltanto per il mondo degli artisti ma vale un po un po in generale per tutti i settori ma nel nel campo degli artisti soprattutto perché assolutamente i ragazzi ma i ragazzi che cominciano io penso che quasi tutti finiscano per la per lavorare nero perché poi ma guarda è una cosa che loro sono contenti perché suonano e mettono via due soldini però senza poi si rendano veramente conto di quello che può succedere se succede un qualcosa che non succede all'estero cosa che succede solo in italia che siamo il 70 per cento anche della cultura musicale della storia musicale è nostra ma l'abbiamo buttata l'abbiamo buttata via anche perché poi c'è anche a livello normativo è veramente un delirio è un delirio quando vuoi andare a fare le cose come si deve e quindi vuoi essere in regola ti trovi davanti a mille mila leggi e problematiche fiscali anche volendo fare le cose per bene diventa difficile farlo in certi contesti è vero allora ragazzi io con 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 dispiacere vi devo salutare stasera mi raccomando seguitemi più tardi con con il programma degli ufo degli alieni dei contattati perché e si parla è una materia un po diversa dalla da quello di parlare degli ufo in in generale seguiteci grazie mille benedetto è stato un piacere averti con noi sicuramente noi ci vediamo martedì prossimo e poi non so chi avremo e intanto benissimo 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 benedetto noi ti aspettiamo ancora sarai sicuramente ancora perché i nostri ostiti ben omani ci comunque ci piace farli tornare poi con te è veramente un piacere esatto esatto ma ciao ciao benedetto sigla ciao ragazzi Saba 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 la musica del mondo è qui Saba e Radio Sound Italia tanti artisti assieme a voi Saba 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 la musica in ogni tua città Saba 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 una frase assieme a noi Grazie a tutti